esistono milioni di case di ogni genere e tipo ma proprio tutti eh dislocate in tante città del mondo tu ne cerchi una da comprare o devi vendere la tua centinaia di persone adesso proprio adesso mentre guardi questo video cercano e vendono casa proprio come te Darwin Immobiliare ti mette in contatto senza commissioni senza spese nascoste offrendoti un servizio professionale e impeccabile un consulente ti guiderà e ti consiglierà al meglio assistendoti in tutte le fasi dalla valutazione alla visura della documentazione fino alla stesura del contratto scatterà foto professionali video anche panoramici a 360 gradi e se occorre con l'impiego di tecniche di home staging poi Darwin immobiliare farà il resto pubblicità inserimento del tuo immobile nel nostro sito in modo che tutti possano trovarti sia dal pc ma anche dal cellulare e tutto questo a partire da un solo euro al giorno Darwin immobiliare offre anche assistenza tecnica notarile e legale per farti vendere o acquistare la casa dei tuoi sogni in tutta tranquillità chiamaci oggi stesso cosa aspetti un euro al giorno e levi l'immobile di torno Darwin l'evoluzione dell'immobiliare Darwin immobiliare opera in tutta la provincia di siracusa seguici anche su facebook e nel nostro canale youtube www.medio.aclis-caud.com